Il gol segnato di testa da Nordal Sei contro nessuno saranno i calci d'angolo a favore del Milan nel primo tempo Pressoché disoccupato Buffon E ancora Nordal che riporta i suoi all'attacco Nuovo calcio d'angolo al diciottesimo minuto E anche stavolta Nordal segna di testa, ma fallosamente Per cui l'arbitro annulla il gol Per il massiccio svedese la partita finisce a metà della ripresa Espulso insieme con Boldi per scambio di colpi proibiti La generosa contropressiva del Palermo si abbatte sulla difesa milanista Ma al vertice dello schieramento Buffon fa buona guardia È finita Di corsa a prendere il piroscafo Raggianti per aver vinto dove non era riuscita la Juventus